Si aspettavano altro dal governo i rappresentanti dell'ALIS, l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile che conta 1530 aziende. Misure più efficaci per aiutare il mondo del trasporto a risollevarsi dopo la batosta del lockdown. Misure che però non sono arrivate, hanno denunciato i vertici dell'ALIS. Il presidente Guido Grimaldi e il direttore generale Marcello Di Caterina, durante la prima giornata della convention, la ripresa per un Italia in movimento, organizzata a Sorrento. Le nostre aziende non si sono mai fermate, pur lavorando in perdita. E questo chiaramente è stato possibile ed è possibile, ma fino a un certo punto noi abbiamo bisogno di misure concrete. Abbiamo bisogno che il governo non alimenti una concorrenza sleale, come purtroppo in parte è avvenuto con la proroga della convenzione, per esempio, armatoriale. E vogliamo appunto che ci sia una concorrenza leale per tutti. Abbiamo bisogno di maggior coinvolgimento. Il governo ci deve chiamare e ci deve ascoltare. E questo chiaramente lo deve fare non negli interessi della nostra associazione di ALIS, ma lo deve fare negli interessi di un settore, del popolo del trasporto, che oggi è quello che ha garantito e non solo, ma è quello che oggi può dare un segnale molto importante al PIL di questo paese. Primi a salire sul palco per rispondere alle domande di Bruno Vespa sulle possibili soluzioni da adottare per aiutare il settore, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli. Il governo non si dimentica di niente. Il governo si è occupato di garantire la sicurezza e senza usare una parola esagerata alla vita agli italiani. Noi siamo entrati in emergenza ed eravamo il secondo paese per numero di contagiati, oggi siamo il dodicesimo paese, questo vuol dire che siamo stati bravi. Adesso è venuto il tempo per cui il governo si occupi del rilancio. Occorre investire in infrastrutture, adesso infrastrutture fisiche e poi anche infrastrutture telematiche, investire anche in pubblica istruzione. Queste sono le cose per cui si spera ci siano questi fondi disponibili da parte dell'Europa con Recovery Fund. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha proposto al governo una detassazione decennale a favore delle imprese. Questa è la risposta dei ministri dell'Università e degli Affari Regionali, Gatano Manfredi e Francesco Boccia. Noi dobbiamo avere un progetto di sviluppo completo del mezzogiorno perché dobbiamo attrarre imprese e creare competitività.